Benvenuti, sono Giorgio Foschini, responsabile tecnico commerciale Antica Signoria Artestyle. Oggi vi presentiamo stili di vertigo Nabuc, una finitura decorativa materica per interni ed esterni completamente rinnovata e reinventata per rispondere alle ultime tendenze del design. La trama effetto pelle ha un disegno elegante e personalizzato. Nabuc darà un tocco di raffinatezza all'ambiente. Su superfici nuove, accertarsi che il supporto sia ben stagionato ed applicare una mano di primer uniformante. Su superfici già pitturate, se necessario, ripristinare con rasanti ed applicare una mano di primer uniformante. Dopo circa 6-8 ore, dall'utilizzo del primer uniformante, applicare una mano di fondo a esse a pennello o rullo. L'applicazione del vertigo stile Nabuc e delle finiture sic fine o sic matta vengono realizzate con l'ausilio dei seguenti attrezzi. Rullo Nabuc, frattazzo inox, rullo perla in riga gialla, spugna mezzaluna. Applicare uno strato di vertigo in modo uniforme con il frattazzo inox e a prodotto ancora bagnato a realizzare il disegno utilizzando l'apposito rullo in gomma a rilievo Nabuc mediante movimenti verticali. A completa essiccazione del vertigo, applicare una mano di sic fine o sic matta in relazione alla finitura richiesta e del colore scelto mediante rullo perla in giallo. Utilizzando la spugna mezzaluna a prodotto ancora bagnato nello stesso senso delle trame, si andrà a auto-omogenizzare ed accentuare la finitura. Vertigo è colorabile con il sistema tintometrico S2K SPD2. Il vertigo base bianca è realizzabile in centinaia di tinte, dalle più tenui alle più energiche, consentendo così di decorare con stile e personalità i vari ambienti. Il risultato della finitura Nabuc è una trama raffinata e di carattere, dinamica nella struttura e attuale nello stile. Vertigo Nabuc è una finitura decorativa materica, per interni ed esterni, completamente rinnovata e reinventata, per rispondere alle ultime tendenze del design. Stili di vertigo, ricerca e innovazione si uniscono al gusto estetico contemporaneo, dando vita a soluzioni materiche moderne e versatili. Stili di vertigo, crea il tuo stile di vita. Arrivederci al prossimo tutorial. Grazie a tutti.